...validiscono, vero? Ermione! Numero R. Ron ne ha appena salvato la vita. Lei non parva di averlo sentito. Una cosa vorrei sapere, però. Riprese, fissando un punto a una trentina di centimetri sopra la testa di Ron. Come hai fatto di preciso a trovarci stanotte? È importante. Se lo sappiamo, saremo sicuri di non ricevere altre visite indesiderate. Ron la guardò torvo, poi si sfilò un piccolo oggetto d'argento dalla tasca. Con questo. Ermione dovette guardare Ron per capire che cosa le stava mostrando. Il deluminatore, chiese, con così sorpresa da dimenticare la sua espressione fredda e rabbiosa. Non serve solo ad accendere e spegnere le luci. Spiego a Ron. Non so come funziona o come mai è successo proprio in quel momento e non prima, perché è da quando me ne sono andata che volevo tornare. Ma stavo ascoltando la radio la mattina di Natale, molto presto, e ho sentito... ho sentito te. Guardò a Ermione. Mi hai sentito alla radio? Chiesa. No.